La coalizione Italia Libera da OGM, oggi ne facciamo la diretta conoscenza, è formata da 32 associazioni contadine, ambientaliste, consumatori del biologico, accoglie con preoccupazione l'annuncio dell'approvazione entro l'autunno del 2023 di due proposte di legge che consentirebbero la sperimentazione in campo dei nuovi OGM. Gli organismi geneticamente modificati, ne abbiamo parlato altre volte. Tutto questo senza aspettare le eventuali disposizioni europee in materia e questo è il punto. Allora, se le connessioni ci sono, ma sembra che al momento una delle due protagoniste sia ancora collegata, aspettiamo comunque anche la seconda, dovremmero collegarci con noi Alessandra Turco, contadina come ama chiamarsi ed è, ed Elisa D'Aluisio, contadina e genetista. Subito dopo la sigla, spero entrambi siano con noi. Allora, Elisa è con noi, ma ecco che si collega anche Alessandra. Siamo al completo, do il buongiorno ad entrambe. Ditemi dove vi trovate. Alessandra, tu dove sei? Mi senti Alessandra? Mi senti? Dove ti trovi Alessandra? Ah sì, scusate, ma è che la linea funziona. Vai, vai, dimmi dove ti trovi. Sono tra Valencia e Alicante. Sono a un incontro contadino agroecologico con una rete di piccoli produttori e piccole produttrici e una rete di studiosi, accademici, organizzazioni non governative che si sono riunite per cercare di elaborare insieme delle strategie di lotta e resistenza verso la sovranità alimentare e l'agroecologia, soprattutto dedicate a realtà femminili. Allora, allora, lo permetterà Elisa? Hai citato la sovranità alimentare, Alessandra. Allora, vorresti essere così cortese da dirci che cosa si intende per sovranità alimentare? Cominciamo così, prima di parlare dei nuovi OGM, come mi avete chiesto. Prego. Certo, la sovranità alimentare per noi della via campesina prima di tutto è un diritto, cioè un diritto al cibo, è un diritto a un cibo che sia ecologicamente e culturalmente compatibile e quindi è legato sia alla capacità e possibilità di produrre degli alimenti a livello locale, sia alla possibilità di poterli acquistare e consumare questi alimenti. Quindi si basa su tutto un sistema che è un sistema non legato a un modello autarchico di produzione chiusa su se stessa, ma è un modello che cerca di essere inclusivo e cerca di prendere in considerazione tutte quelle che sono le necessità e le sfaccettature che portano a uno sviluppo equilibrato del territorio all'interno del quale ci sono dei piccoli produttori che producono alimenti e che attraverso una rete di relazioni e contatti distribuiscono questi alimenti alla popolazione locale. Direi tutto molto chiaro Elisa, anche a te diamo il nostro benvenuto. Dunque Elisa, entriamo nel merito allora con te degli OGM, non diamo nulla per scontato. Ricorda cosa siano gli OGM e quali sono i più diffusi e quali rischi portano con sé. A te la parola. Allora innanzitutto cominciamo con chiarire la terminologia, perché fin dagli arbori dei vecchi OGM giravano parole OGM, transgenico, cisgenico. Va specificato che cisgenico o transgenico sono comunque OGM e per arrivare a spiegare questo bisogna capire un po' che cos'è la reale definizione di OGM. Allora, c'è la definizione ufficiale del protocollo di Cartagena, che è il protocollo di biosicurezza, che li definisce in maniera molto molto chiara. È un organismo vivente che possiede una combinazione inedita di materiale genetico ottenuta avvalendosi della biotecnologia moderna. Sempre la direttiva 2001-18-CEE ha poi definito un organismo diverso dell'essere umano, perché non parliamo della umana, il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con l'accopriamento e o la ricombinazione genetica. Questo è un OGM. Quindi non si parla di se il DNA è inserito e di una varietà vicina o lontana di una specie o di un altro genere. Si parla proprio della manipolazione genetica. Quindi quando si inizia a parlare di cisgenesi, ossia di usare la parola cisgenesi in contrapposizione con l'OGM e l'OGM come sinonimo di transgenesi, si fa un abbellimento del tema che permette una distorsione utile a togliere dalla visione di OGM la cisgenesi. Mi pare, Lisa, che sia sufficiente e chiaro. Attenzione perché non è che abbiamo tempo, dobbiamo stare attenti alle risposte. Ma allora, da tempo si parla di nuove tecniche genomiche che il Parlamento e le associazioni dell'agroindustria si preparano a far sperimentare in campo aperto. Ecco, perché in questo momento voi avete attenzionato e anche il mondo nostro, dei media, della comunicazione, su questo momento particolare. Qual è il rischio che sentite essere nell'aria? Alessandra? Prima di tutto la questione è che i nuovi OGM devono rimanere all'interno di quello che è il regolamento europeo e quindi la direttiva del 2001, che è quella che accoglie il protocollo di partaghena. Quindi, come diceva Elisa, per noi i nuovi OGM devono essere assolutamente assimilati ai vecchi OGM, se così vogliamo distinguerli in modo da arrivare a un linguaggio comune che ci permetta un po' a tutti di capire di cosa stiamo parlando, perché nel momento in cui c'è una manipolazione genetica, allora devono sottostare a questo stesso principio. Questo principio si chiama principio di precauzione ed è quello che permette, attraverso la tracciabilità del prodotto stesso, di far sì che noi possiamo sapere che quel dato organismo è stato ottenuto attraverso un procedimento che non è un procedimento naturale. Questo fa sì che possiamo avere delle precauzioni appunto nella diffusione e distribuzione di questo prodotto stesso, quindi che queste siano le sementi o che poi si tratti di altre tipologie di organismi. Per cui per noi è fondamentale che questo venga riconosciuto e che non si bypassi questo regolamento, perché questo farebbe sì che si vada incontro a un percorso di deregolamentazione che fa sì che quelle che sono le sementi contadine, quelle che sono le sementi biologiche perdano questa protezione e quindi rischino di essere contaminate. E questo causerebbe anche dei problemi indiretti e poi diretti a quella che è la biodiversità naturale. Certo, molto bene, molto chiaro. Elisa, tu sei anche genetista oltre, ma soprattutto contadina. Prima di ogni altra cosa, contadini, ma tutti siamo contadini nell'anima e nel cuore. Io poi sono umbro, sono un verde, ho il cuore verde. Senti, perché i nuovi prodotti vengono definiti dei promotori, delle proposte di legge come non equiparabili agli OGM e assimilabili a varietà derivate da mutazioni naturali o selezioni tradizionali. Voi che cosa dite a riguardo? E perché vengono presentati anche come la panacea di tutti i problemi ambientali che tanto stiamo dibattendo in questi tempi? Soprattutto in agricoltura sono ben pericolosi, mi pare, no? Allora, la narrativa continua a essere distorta, nel senso che i nuovi OGM vengono chiamati prima NB, New Breeding Techniques, quindi assimilati a un processo di breeding, di selezione, per poi essere rinominati TEA dopo una serie di esposizioni nostre che le NBT sono OGM nuove, ossia tecniche di evoluzione assistita. Di fatto i nuovi OGM sono OGM perché in gran parte si basano proprio sulle tecniche quelle antiche, quelle che fanno l'OGM-OGM, quello del biolistico e dell'agrobatterio, ma anche escludendo in laboratorio questi passaggi, rimangono nuove OGM perché? Perché le tecniche nuove usate interferiscono a livello di DNA. E la narrativa continua a dire che queste forbici molecolari, per esempio, sono estremamente precise, estremamente adeguate, estremamente inattaccabili. Di fatto però, oggi già in questi anni di protesta e di blocco, sono usciti delle ricerche scientifiche inequivocabili, ossia uno degli effetti proprio di CRISPR-Cas9, che è la tecnica più voluta, più applicata per la sua flessibilità. Può essere usata in qualsiasi tipo di pianta, in qualsiasi tipo di varietà, senza difficoltà. Proprio CRISPR-Cas9, nel modo in cui funziona, crea delle delezioni a livello del genoma, delle spostamenti di pezzi di cromosoma, degli inserimenti di DNA esogeno, da contaminazione di provetta addirittura, che non sono delle cose casuali, rare, ma è proprio il modus operandi di questa macchina molecolare. Negare l'esistenza di questi effetti collaterali è parte della propaganda, ed è lì che nasce la preoccupazione. Una ricerca scientifica, trasparente, e una ricerca scientifica che ammetta dove si trova e che cosa produce, è fondamentale, non soltanto per la fiducia, ma proprio per assicurare che una volta applicata in campo non crei poi dei problemi. Noi non siamo contrari alla sperimentazione, siamo contrari all'ignorare il principio di precauzione, a nascondere effetti secondari evidenti oramai e a permettere in maniera del tutto arbitraria la coltivazione in campo di queste piante ottenute in questo modo, senza rispettare il principio di precauzione, il fatto che di fatto sono OGM, quindi vietati in Italia, perché l'Italia ha scelto di non ammettere gli OGM, e poi giustificare questa violenza, il principio di precauzione, con una necessità. E rubo ancora cinque minuti. Un attimo, rubo cinque minuti. Guarda che cinque minuti sono tanti. Tre, tre minuti. Sono tanti cinque minuti. Un minuto. Vai. La panacea. Allora, vengono promesse risoluzioni con questi nuovi OGM. Soluzioni però causate proprio dall'agricoltura estrattiva, industriale, quella è votata soltanto al mero guadagno. Per esempio, le resistenze che vengono promesse per la viticoltura, una volta introdotte nel vitigni, come sta succedendo, e coltivati a tappeto in Italia, in zone anche non vocate, pur di produrre di più, rischiano di perdere queste resistenze in pochissimo tempo. Tornare quindi all'uso indiscriminato dei pesticidi, che era la promessa iniziale per cui dovevamo aprire subito a questi nuovi OGM, e tornare ad avere quindi pesticidi, ma anche OGM in campo in Italia. Allora, ti ringrazio molto Elisa, sei stata molto, molto precisa e credimi se hai capito bene tutto. Ad Alessandra faccio questa domanda. Allora, se capisco bene, anche per tradurre nei confronti del grande, grandissimo pubblico, che ha la pazienza sempre di ascoltarsi quotidianamente, e su questi temi, allora, ricordiamo che non si tratta semplicemente di parlare ormai più di origine, di tracciabilità, di etichettatura, come in genere si dice, no? Perché il tema, come ci ha detto Elisa, e come anche Alessandra adesso potrà meglio svolgere, è anche quello delle mutazioni fuori bersaglio, come sappiamo, ma in generale, si può dire, e chiedo ad Alessandra, ma anche a Elisa, se esistono lacune conoscitive sui reali rischi, sulle minacce legate ai nuovi OGM, parlo di biodiversità, parlo di ecosistemi, parlo della nostra salute. Ecco, io credo che questa sia la vera domanda di fondo che dovevo porvi. Alessandra. Io credo che il problema fondamentale resta che non abbiamo una conoscenza tale da far sì che sappiamo quali siano i reali effetti su questi organismi e quindi la nostra capacità sia di comprensione che poi di controllo è molto scarsa e per questo è fondamentale riuscire attraverso i meccanismi che sono attualmente in vigore legati proprio alle normative esistenti, legate alle legislazioni sui OGM e quindi la tracciabilità e quindi l'etichettatura far sì di sapere quali prodotti derivano da un dato procedimento e questo è quello che noi chiediamo come base nel senso che perché nascondere che un organismo deriva da un procedimento o da un altro? Se è tutto sano e se è tutto buono possiamo dichiararlo senza nessun problema. Nel momento in cui lo dichiariamo allora noi possiamo essere messi nella condizione di scegliere se utilizzarli o meno di sceglierle se mangiarli o meno e di capire come coltivarli perché questi non arrechino contaminazioni agli altri organismi presenti nell'ambiente che siano legate alla biodiversità agricola o che siano legate alla biodiversità naturale. Elisa vuoi aggiungere qualche cosa al riguardo? Credo che valga la pena. Allora sì le conoscenze che abbiamo stanno aumentando di giorno in giorno sempre più articoli scientifici internazionali su riviste quotate stanno uscendo su quello che non sappiamo di queste tecniche e su quello che dovremmo scoprire ancora. E l'invito è proprio quello di nella filiera alimentare c'è l'HCCP che è l'identificazione dei punti critici per la salute e l'ambiente e quindi l'obbligo per qualsiasi operatore nell'ambiente alimentare di rispettare di individuare risolvere chiarire i punti critici aprire prima di avere anche la minima idea di che cosa possono portare questi nuovi organismi in natura consideriamo poi che li può fare in qualsiasi laboratorio in qualsiasi momento su qualsiasi specie e che quindi abbiamo anche una quantità di organismi che da 0 a 100 possono essere rilasciati immediatamente in ambiente senza che ci sia un controllo che tutti veramente abbiano fatto l'analisi dei punti critici mi sembra assurdo perché la pianta la pianta coltivata è l'inizio della filiera alimentare e quindi è anche il punto più critico e quello che poi si ripercuote su tutti i passaggi successivi parlare di non identificare questi prodotti di non tracciarli è un azzardo inaccettabile il fatto che non siano individuabili rispetto a fenomeni di mutazione naturale non è vero se uno conosce il procedimento conosce la sequenza tutta la sequenza dell'organismo anche gli off target quindi quello che non vorremmo e non dovremmo sapere rispetto a quello che viene raccontato possiamo individuare trovare le tecniche per identificarle e quindi tracciarle e questo è l'inizio dell'etichettatura il problema dell'etichettatura è il rifiuto del consumatore il consumatore rifiuterebbe quello che non è sicuro secondo lui e questo è il grande problema anche del perché è nata questa questa narrativa distorta e questo nascondere gli effetti collaterali e di non fare una ricerca e una esposizione trasparente dell'argomento sono contento perché ti è stato permesso di concludere il ragionamento e di farci fare l'ultima riflessione l'ultima riflessione dovrebbe anche essere rispetto al fatto che la ricerca sul biologico vede intanto bloccati i finanziamenti come tutti voi sapete che sono già stati deliberati ormai da anni ci sarebbe da chiedersi come mai e perché la vostra risposta qual è e chiudiamo così Alessandra hai sentito Alessandra la domanda? se no rispondo io no scusate è di Isa comincia tu io poi sì allora i fondi per il biologico sono stati deliberati da tempo poi è arrivata la nuova legge sul biologico e la legge ci ha messo del tempo i bandi per la ricerca hanno messo del tempo la scelta di chi era vinceva il bando ha avuto necessità di tempo e poi tutto si è bloccato perché mancano i decreti attuativi quindi fondi deliberati per la ricerca bloccati dopo tutto l'iter per la mancanza di decreti attuativi ma abbiamo il tempo entro il 2023 di fare due leggi per aprire le nuove OGM senza un minimo rispetto dell'ambiente della salute umana del principio di più cauzione e del buon senso Alessandra vuoi concludere allora tu? beh mi sembra un'ottima conclusione vorrei solo rimarcare che la produzione biologica e la produzione agricola delle piccole realtà agricole in Europa continua a essere una produzione prevalente continuiamo ad avere una produzione elevatissima che è quella che ci permette di accedere in gran parte a cibo di qualità e noi vorremmo che questo continuasse ad essere possibile e ha parlato la contadina in questo in questo momento Alessandra Turco che ringrazio come ringrazio Elisa Elisa D'Aluisio genetista oltre che contadina se avete necessità che si porti avanti un ragionamento ricordatevi che io sono sempre disponibile questa piattaforma è disponibile anche se come è per Alessandra oggi si trova tanto lontano dai nostri patribili ad entrambi vi dico buon lavoro è il caso proprio di dire buon lavoro buona semina e buona aratura a presto grazie grazie per l'appoggiare grazie per l'appoggiare